El Goldwyn, boom, alle 7.35 minuti, qui sempre in diretta su Crystal Radio, Good Morning Milano e parliamo di un'iniziativa, un'iniziativa che, lo sapete, questo weekend ci sarà la Civil Week noi di Milano News andremo in giro per ben 50 e passa eventi, dei 400 eventi che ci saranno sul territorio alcuni magari non riusciamo proprio a passarci, allora diciamo, ma aspetta, raccontacelo voi che magari è interessante, quindi noi non riusciamo, ma tanti cittadini milanesi vogliono invece andarle a vedere ed è uno di questi, l'evento di cui adesso parliamo, appunto sabato, organizzato da Agedo buongiorno ad Andrea Pigei, buongiorno buongiorno allora, Agedo abbiamo parlato, Agedo, per chi magari è così un po' più distratto e non lo conoscesse è un'associazione che fa che cosa? Chi è Agedo? Chi sono Agedo? Allora, Agedo Milano è una sede della nazionale perché Agedo esiste in tutte le regioni di Italia quindi Agedo Milano si occupa di accogliere le persone che hanno figli o parenti che stanno facendo il coming out e abbiamo un'accoglienza, facciamo gruppo di automutaiuto dove possono confrontarsi con altre persone che hanno vissuto questo momento importante della loro vita e poi facciamo anche promozioni per i diritti civili delle persone LGBTQIA+. Quindi questo evento è un evento di libri parlanti e un libro parlante è un evento dove il pubblico può parlare in diretta con una persona per conoscere un nuovo mondo e prendere conoscenza di un vissuto che magari è da vivo, che non puoi avere da un libro scritto È interessante, avete chiamato la biblioteca dei libri parlanti Le persone sono i nostri libri da sfogliare, come funziona? Esatto, c'è un bibliotecario, c'è un catalogo Si può scegliere il suo libro e si può prenotare il libro che è una persona Il sottotitolo è Storie e racconti multicolori della comunità LGBTQIA+. Abbiamo 12 persone o 12 libri disponibili dalle 11 e mezza alle 15 e a circa mezz'oretta ognuno può prenotare una persona e conoscere la storia della persona Infatti Andrea, quanto dura una lettura di un libro? Quanto ci metto a sfogliarlo? 20 a 20 minuti, dipende della persona Ok, ci puoi anticipare qualche titolo, in questo caso, di qualche libro? Cioè come funziona il catalogo? Come faccio a scegliere? Allora, non mi sono preparata col catalogo però abbiamo il mio libro, ad esempio Io sono una mamma fortunata e quindi chi viene a ascoltare la mia storia saprà proprio che sono una mamma fortunata Il titolo del tuo libro è Io sono una mamma fortunata Il titolo del tuo libro, diciamo Ok, perfetto, perfetto, è chiaro Il catalogo sarà disponibile su posto Ok In cartaccio Quindi non abbiamo pensato di mettere online Giusto, mi piace come idea Su Instagram abbiamo pubblicato comunque una scheda di ogni libro ogni giorno Quindi se andate su Instagram e cercate Milano A Giro Milano Vedrete tutti Non è un estratto del catalogo dove c'è una scheda di ogni libro Quindi ci sono 12 schede in giro Ah, bene, bene Potete comunque vedere in antiprima Ecco, la cosa interessante è che Questa iniziativa si rivolge sicuramente anche ad altri Perché voi sul vostro sito vi definite L'associazione di genitori, parenti, amici, amiche Di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, plus appunto Quindi diciamo Chiunque è nella ruota intorno alla cerchia di affetti appunto Di una persona LGBTQIA plus Abbiamo una diversità di persone Abbiamo un drag queen, la umana gastrica Che fa un libro Quindi potete prenotare con questo libro Abbiamo mamme di A Gedo Abbiamo un papà di A Gedo Abbiamo una mamma di famiglia Arcobaleno Che racconta la sua storia E abbiamo persone non appartenenti alle associazioni Che hanno dei vissuti da condividere interessanti Infatti dicevo appunto questa cosa qui Che è molto interessante Perché può essere ovviamente letto Questi libri possono essere letti diciamo Da altre persone che sono in questa condizione E quindi appunto sono amiche, parenti Di persone LGBTQIA plus Ma anche da chi invece magari vuole capire meglio E acculturarsi proprio su che cosa vuol dire questo mondo Esatto Il concetto del libro parlante è aprire un mondo A chi non conosce questo mondo Di permettere di conoscere di prima persona E questo vale non solo per questo evento Ma in altri eventi Per eliminare le barriere di pregiudizi Di stigma e di discriminazione Di permettere alle persone Di avere una nuova esperienza Un nuovo punto di vista Allora ricordiamo bene Andrea Dove, quando, a che ora, come funziona Bisogna prenotarsi Si può venire lì, come funziona Perché insomma La Civil Week appunto come dicevo La Civil Week sono 422 eventi in tutta la città Ognuno ovviamente con modalità diverse Quindi qual è la vostra? Allora noi siamo in presenza Non ci sono prenotazioni online Quindi presentandosi all'Officina 5 Della Cascina Cucagna Ci sarà un banco dove c'è il bibliotecario Che presenta il catalogo Abbiamo la lavagna dove abbiamo tutti i nomi dei libri E gli orari predisposti E ognuno può chiedere di prenotare l'orario che vuole Quindi venite un po' in anticipo Perché se venite per le 12 o le 14 Le prenotazioni sono già fatte in anticipo Perché si riempiono Ci si mette in coda diciamo Ci si mette in coda nelle prenotazioni Quindi arrivate presto in modo da potervi segnare Come dire in questo caso Abbiamo anche un tavolo con le foglie di recensione Chiediamo a ognuno che partecipa Di scrivere qualche parola, qualche riga Che poi possiamo appendere Per far vedere al pubblico con la moletta Ma bellissimo Andrea ma è la prima volta che fate questa iniziativa L'avete già fatta in altre situazioni? Allora è la prima volta che partecipiamo Nel contesto di Milano Seven Week Ok Il Libri Parlanti è un'attività Che esiste da 20 anni circa Che abbiamo dei soci che hanno assistito Ha partecipato da tempo Questa volta abbiamo deciso di formare nuovi libri All'interno di Ageno Milano E di estendere alle altre associazioni del coordinamento arcobaleno E poi anche a conoscenti che non fanno parte delle associazioni Quindi abbiamo un bel misto di esperienze Giusto E speriamo di continuare Infatti Andrea, giustissimo È come quei libri Ci sono quelli delle grandi case editrici Che sono quelle appunto voi che da 20 anni fate tutto E poi ci sono quelli autoprodotti A volte quelli degli indipendenti Che sono appunto quelli che avete invitato Quindi è una vera e propria biblioteca Che vogliamo venire a leggere Bellissimo davvero Complimenti per l'iniziativa Allora ricordiamo appunto Sabato 11 maggio, giusto? Esatto Dalle 11 e mezza Ok Alle 15 circa Perfetto Quindi le ultime letture sarebbero alle 14 e 30 Ok E si può anche fermarsi nel giardino Perché è un bellissimo contesto La cascina cocagna E poi portate amici, parenti, figli Si può leggere anche in compagnia il libro? Sì, posso venire due o tre persone a leggere lo stesso libro? Allora Allora se c'è una coppia sì Ok, perfetto Non in gruppo Ok, perfetto Giusto, giusto Lo spazio è un po' ristretto Giusto, giusto Hai fatto bene? Hai fatto bene Andrea a dircelo Hai fatto benissimo a dircelo Bene Grazie mille allora Andrea Grazie a tutti Porto i nostri saluti Anche a tutta Gedo Milano E appunto ci vedremo Alla Civil Week L'11 maggio Sabato 11 maggio Dalle 11.30 alle 15 Alla cascina cocagna Con i vostri libri parlanti Grazie mille Andrea Grazie, arrivederci Grazie mille ancora Andiamo con la musica Sono loro Sono i pinguini tattici nucleari Con una storia infinita Anzi La storia infinita Grazie mille Grazie mille Grazie mille